Ma Edo, convinciami! Non ci vuole! Non ci vuole! Non ci vuole! Ma perché ti ha? Non, non, non! Anche io, anche io ho capito di saltare a tona! Non ci vuole! E' un po' più grosso! Sì, sì, vai giù pesante caro, sentiti una cicciona. Magari potrei fare qualche foto mentre salti dalla feria. Una foto? Salti un po' più... No, no, ce la faccio. Beh, appoggi le mani a giù, girati e appoggi le mani a giù, non ti arriva a foto adesso. Che è qui ciò? All'altro mi si vedrà che è mutato. Dove le varre? Eh sì, no, perché sono scivoli. Ma anche con lo stupor c'è la linea con un po'. Dai, dai, adesso sto facendo il video, che stai facendo salti un po' più alti. Vai ad agio. Eh, quando sali vai ad agio e quando scendi vai per dentro. Se io sono scendi, mi provi a farlo. La mia famiglia è un po'. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. dai la gatticella che scosta perchè prima pure ce l'ho vista di usare sembroni c'è il gatto che ti sta guardando non 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 quando sali prendi più tempo proprio poi quando scendi adesso si la tua voce c'è stoppita io sono un approvato infortunato no aspetta devo riprendere quello che la prossima volta lo fai che tu iai quando sto bene si mi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.